Cari amici, oggi realizzo questo video per far vedere l'oggetto a 360 gradi. Questa è un'altra collana rosario, laminata in argento. Le palline sono circa 6 mm grigie. Vi faccio vedere il crocifisso. La collana è come rappresentata in foto. Vediamo se riesco a fare il primo piano del crocifisso. Ok, perfetto. Qui abbiamo la madonnina. Il tutto viene spedito con la sua confezioncina. Se vuole fare un regalo o quant'altro. Spedito con corriere SDA. Adesso entra un po' ancora. Grazie.